bella ragazzi allora oggi andiamo a fare gli ultimi regali di natale come vedete fuori piove è una giornata molto grigia e ragazzi che dire andiamo anche a scoprire come è messo il centro commerciale e se la gente sfrutta oggi come ultimo giorno per uscire di casa visto che domani saremo tutti rinchiusi in casa di nuovo quindi ragazzi partiamo andiamo al centro commerciale e vediamo la situazione com'è la madonna ragazzi siamo in fila per l'antico vinaio c'è giusto un pochino di gente è giusto un po eccoci qui ragazzi siamo arrivati dopo una mezz'oretta di fila non sono quelli una claudiana come va ragazzi l'apertura tanta gente eh chi? bene grazie vi volai ragazzi ciao quanto ti do per la claudiana? 50 euro tesoro 50? preciso eh mi dai anche una coca cola dai vai gentilissimi eh anche i ragazzi veramente gentilissimi ciao tesoro buon frutti ciao anche a voi ciao ciao grazie auguri se ci si vede auguri buon natale vi volai ragazzi missione compiuta ora ci andiamo a mangiare la schiacciata eh eccola qua ragazzi la claudiana porca misera sembra un po' piena eh abbastanza ok stop 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 ragazzi il video finisce qui c'era veramente tantissima gente al centro commerciale me lo aspettavo visto che era l'ultimo giorno che potevano fare le compre scusate se è stato tutto un po' traballante ma sto ancora mettendo appunto la mia fotocamera nuova mi raccomando se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un pollice in su alla prossima ragazzi bella wayo ciao 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 ciao